Dopo il generale miglioramento che ha interessato la nostra regione nella giornata di ieri con temperature massime che grazie al maggior soleggiamento sono state più alte del previsto, la perturbazione che ci ha interessato nel pomeriggio e nella serata di ieri e che ha portato diffuse nevicate nella parte centro-meridionale della regione si è allontanata rapidamente verso est, permettendo un nuovo aumento della pressione e un conseguente miglioramento. Per domani nuove infiltrazioni di aria instabile interesseranno le zone occidentali. Sulla nostra regione avremo un rapido miglioramento per lo spostamento verso est del fronte nuvoloso che nelle prime ore della mattinata sarà ancora in grado di generare qualche fenomeno, anche nevoso, a quote basse. Tra il pomeriggio e la sera il cielo tenderà ad aprirsi ovunque, a parte le zone tirreniche, con conseguente calo delle temperature notturne. I venti saranno inizialmente deboli orientali per poi ruotare nel corso della giornata a ovest-nord-ovest, i mari, sia il tirreno che lo ionio, saranno generalmente poco mossi. I valori minimi, pur mantenendosi sotto lo zero in diverse località, saranno in generale aumento. Le temperature massime rimarranno più o meno stazionarie. Potenza a meno 2 gradi la minima, 2 gradi la massima. Matera a 0 gradi la minima, 6 gradi la massima. Tendenza per domani. Avremo un nuovo aumento della nuvolosità che interesserà soprattutto le zone occidentali della regione, dove ci potrebbero essere delle locali precipitazioni con possibili nevicate a quote superiori ai 900 millimetri. Sul lato orientale della Basilicata il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature aumenteranno nei valori massimi.